Supercell noi stiamo sempre aspettando la skin per Edgar e per Ambra e quando volete non ci siamo e comunque Io ragazzi su questa skin ve lo dico sono sconcertato Ehi la gente benvenuti in questo nuovo video oggi siamo tornati su Brawl Stars Signori eccoci con la continuazione del video precedente abbiamo visto il nuovo Brawl e adesso vediamo la sua skin E tutte le altre che insomma possiamo vedere in anteprima oggi quindi non perdiamoci di chiacchiere e partiamo subito col video Eccoci qua sul nostro paddino questo è Stu ripeto tutte le curiosità sul brawler le abbiamo trattate in un video a parte che è uscito già prima di questo Regà andiamo subito a bomba con la sua skin ok ripartiamo proprio da qui infatti questa skin che è un semplice cambio cromatico niente di esagerato Costerà 29 gemme ma quando uscirà? Beh iscrivetevi al canale per saperlo mi raccomando Campanellina manetta con super pollicazioni su e poi ovviamente oggi si parla di skin quindi non dimenticate mai Codice ferre in photoshop che è super importante per potermi supportare ragazzi In realtà per confermarvi per bene la data di uscita delle skin vi lascio tutto scritto in descrizione come sempre Quindi non parlo di date nel momento attuale vi lascio poi un riferimento preciso in descrizione Ragazzi andiamola a provare subito ascoltiamo adesso se c'è un cambio sonoro tra le due skin Ok questa traccia audio qua è esattamente la stessa quindi non c'è nessun cambio sonoro Ovviamente essendo nuovo il brawler facciamo anche un piccolo test di nuovo con quello base per rivedere il tutto Ripeto questo è il movimento lascia una scia come vedete questo è quando spara e questo è quando usa la ulti Per quanto riguarda quello da 29 gemme ovviamente costando così poco io dubito che ci siano dei cambi Però allora abbiamo lo pneumatico ragazzi che lascia la medesima scia Il colpo che mi sembra il medesimo eppure la ulti ragazzi non cambia niente No è solo un cambio cromatico easy però ripeto è una skin apprezzata Perché comunque non ci rimane il nuovo brawler lì senza neanche una skin che insomma sembra sempre di dover usare per forza quello Ma c'è abbiamo quell'alternativa supercell noi stiamo sempre aspettando la skin per edgar e per ambra e quando volete Non ci siamo e comunque su altri brawler però ragazzi c'è un aumento delle skin a disposizione Infatti bb oltre alla skin eroica e alla skin zombie b che mi piacciono un sacco Adesso c'è anche la versione bb furfante e col graxone l'altro giorno in live abbiamo buttato giù una teoria Su questa skin che sicuramente verrà approfondita in live o magari proprio con un altro video a parte Però ragazzi questo stile di skin è completamente nuovo è una sorta di bb ladruncola Ok anche se oddio sembra più una bb horror dalla maschera E effettivamente ragazzi potrebbe essere un nuovo stile di skin o proprio un nuovo stile in generale C'è chi lo sa vedremo in futuro Detto questa piccola premessa non ho a disposizione ancora da farvi vedere la skin di Penny Quella insomma con i punti stellari che abbiamo già visto e vedremo magari anche nelle leghe ok Costerà comunque 25.000 punti stellari e anche lì vi lascio poi in descrizione i riferimenti per l'uscita Per quanto riguarda bb furfante invece siamo su una skin di nuovo molto modesta Si parla di 49 gemme 49 gemme si è un taglio di skin nuovo Cioè è a metà tra le skin da 29-30 per intenderci e quelle da 79-80 Quindi che cosa cambia? Vediamolo subito sicuramente un aspetto estetico molto curato Forse più di una skin da 29 gemme Ma per quanto riguarda gli effetti sonori Sembrano cambiare niente Proviamo al volo il modello base di Bibi Ok questo è il colpo Ok vediamo distintamente la mazza E se facciamo così vediamo anche distintamente il chewing gum Ok proviamo adesso l'altra skin Ok esteticamente molto bella Come movimento non sembra cambiare niente Ho anche messo lo scudo ma insomma non cambia niente Però aspetta per quanto riguarda il colpo ragazzi si Effettivamente abbiamo un colpo nuovo Vediamo se stessa cosa succede con la ulti No la ulti è uguale Ah ecco perché abbiamo questo nuovo taglio di prezzo delle skin Perché effettivamente va a cambiare il colpo normale Ma non la ulti ragazzi E' un caso secondo me più unico che raro questo Se non sbaglio non ci sono molte altre O addirittura non ci sono proprio altre skin a questo prezzo Ovviamente non parlo di skin in sconto Parlo di skin appena uscite Quindi insomma sicuramente è una skin molto particolare Apre teorie Ha un nuovo taglio di prezzo Ci sta Arriviamo adesso ragazzi alla skin di Dynamike Io ragazzi su questa skin ve lo dico Sono sconcertato Spero che Supercell magari cambi idea Magari con un feedback che gli possiamo dare anche noi content creator Però io sinceramente non mi trovo d'accordo con questa scelta E ci tengo anche a dare il mio parere nel video Ragazzi per carità Bella la skin e quant'altro Capisco bene che ci sia la versione CT Quella rossa Che sinceramente mi piace anche di più Che costa 149 gemme Ma questa ragazzi costa anche lei 149 gemme Cavolo uno sconticino si poteva anche fare 80 Poi chi lo sa che magari in futuro non arriverà comunque Però però la cosa figa di questa skin è che può costare zero Può essere gratuita Attenzione Questa è la cosa interessante Se si vince la sfida PSG Questa ce la portiamo a casa gratis E a quel punto diventa magicamente secondo me per tanti più bella Della skin CT classica Perché voglio dire sono indubbiamente molto simili Questa è firmata PSG Però ragazzi in effetti Gratis questa skin potrebbe essere tanta roba Adesso la andiamo a provare ma io immagino già Che come la skin CT abbia tutta una serie di accortezze Non gli effetti sonori ma I colpi diventano delle bombette E ok E anche la ulti in teoria dovrebbe diventare E vedi diventa Quel sacchetto che c'è dietro Quello zainetto pieno di palle Quindi si per carità Molto molto bella come skin Da questo punto di vista Come skin gratuita ragazzi È una roba stratosferica Però sinceramente per chi poi la dovrà shoppare Io non ci avrei visto male uno sconticino Però magari Ti ripeto Sono io che sono critico su questo aspetto Poi altro discorso Se ti fate PSG Se ti fate PSG Ve la possono mettere anche a 200 gemme Che la pigliate una skin così E altra lancia a favore Che posso spezzare di queste skin È che vincendola Tramite l'evento PSG Non vi troverete a fare una sfida in showdown Come era successo con la skin di Bo Ma in una modalità un pochettino più carina del gioco Ok La 3v3 è la Brawl Ball E c'è anche da dire Che per la prima volta Non ci saranno 4 sconfitte massime Per questa skin Ma vi ricordo Con 30 gemme Potrete arrivare a 6 No scusate 6 sconfitte massime Per questa skin E a quel punto potrebbe anche valere la pena Insomma Di risparmiare qualcosina Per non andare a spendere 150 gemme Però anche lì data di uscita Più che della skin della sfida È tutto in descrizione Appena ho delle notizie ufficiali Attenzione però Perché adesso facciamo una rapida carrellata Di tutte le nuove reazioni facciali Dei brawler con skin base Infatti Sono state rifatte Le reazioni facciali Ecco qua possiamo già vedere Di Rico Quanto è bello ragazzi Cioè adoro un sacco È molto più curato Se lo guardate bene Lo capirete subito Se insomma siete un minimo Confidenti con Rico Ma insomma Rico ragazzi È Rico Bull ragazzi Alezzo con Firmed Anche il buon Frank Tonno con Firmed Il buon Dynamike Non so se ci avete fatto caso poco fa Il carissimo Corvo Anche qui ragazzi È più curato Parliamo di dettagli Non tutti li noteranno Lo so già Però voglio dire Sono reazioni facciali Se no non si chiamerebbero reazioni facciali Ma addirittura A me nel caso di Bo Sembrano più curate anche le skin matcha Guardate come sono più luccicanti Cioè ragazzi Sono molto più luccicanti Le skin matcha Di che stiamo parlando Il buon Tic Mamma mia ragazzi Tic era inespressivo Sembrava veramente un manechino Meno male Sbatte gli occhi Vabbè cose Tic ragazzi Quanta personalità Anche la piccola Iris Ragazzi Io vi farei notare solamente Iris Che hanno animato pure le emoticon Ma va che belle che sono diventate Cioè pure le emoticon animate Su alcuni brawler Poi vabbè Quelle le vedremo con calma E il buon Beryl Ragazzi In realtà mi devo correggere Fino a subito Perché qui Prima ho detto reazioni facciali In realtà fino adesso Sono reazioni in generale Le vere reazioni facciali E basta Seguono dopo questo Beryl E sono Il buon Brock Brock B-Boy Ok di nuovo Bo E le skin mecha Infatti mi sembrava strano Prima le avevo notate ragazzi Ovviamente questo discorso vale con tutte Cioè Distinguiamo bene reazioni animate Che sono quelle che abbiamo visto prima E reazioni facciali Che quindi riguardano solo la faccia Bocca Naso e occhi Perché in questo caso ci sono pure Bo Horus Che ha una modifica di reazione facciale E ancora meglio si nota Su Bo Diabolico Guardate bene in questo frangente Vedete che fa questo sorriso demoniaco E' proprio lì il change sul sorriso Il buon Tic infatti Aveva anche una reazione corporea Prima non solo facciale E stessa cosa succede per Ticaregranchio Che in effetti anche lì Gli occhi hanno una leggeva modifica Idem per E' il primo Che bello Molto carino E' il primo oscuro Skin molto vecchia Che ci sta che venga una tina ritoccata E anche il primo regale Vabbè ma ragazzi Io prezzo un sacco ste cose Perché le vecchie skin Non sono messe lì Boh la gente le ha scioppate Sono mollate lì Fine a se stesse Ma vengono comunque curate Questo veramente tanto di cappello super self Il buon pocio Ve lo faccio rivedere al volo Guardate che carino E Idem vale per la skin romanticone Guardate che carino E per la skin pirata pure Rico prima l'avevate notato Anche su Restecca Vale lo stesso discorso Ovviamente qui quindi Reazione sia corporea che facciale Modificata Ma in più Stessa cosa Su Rico Scoppiettante Rico Brigante No bellissima La X sta tipo girando Bellissimo E Rico guardia Anche questa skin qua ragazzi Eppure bella costosa Ci sta che l'abbiano Un attimino ritoccata Ok ragazzi Questi qui erano veramente Piccoli dettagli Però so che a molti di voi Fanno piacere E poi magari qualcuno Già aveva in mente Comprata una skin Sappiate che magari Le skin che vi ho appena elencato Verranno poi Migliorate Come avete visto Dal prossimo update Quindi mi raccomando Sempre codice nello shop Ferre Quando volete Prendere una skin Così vi potete supportare Ragazzi Grazie a tutti quelli Che lo fanno quotidianamente Sono giusto il termine del video Faremo poi Un altro episodio Dedicato ai bilanciamenti Ma quello sarà Proprio un video a parte Regà Ripeto Se vi siete persi La parte precedente a questa Di Stu Andatela a recuperare Ci becchiamo presto Un saluto a tutti E ciao ragazzi